La bellezza di queste mani che non stanno al petto, perché sarebbero diventate troppo banali, ma sono lontane dal petto, quindi implorano con più forza il Dio, il Signore. Questa è la forza del personaggio a sinistra. Mentre la forza del personaggio a destra, in Francesco, è in questo suo, nell'ascetismo di questo viso, ma anche un po' demenziale, il riso demenziale dalle troppe sofferenze. E proprio la forza della figura di destra è proprio questo. È dinoccolato, è talmente magro, che si sente il stesso che sotto quel saio sembra vuoto. Invece rimane un po' schiaggiato dentro, capito? Viene solo il fuori per chiaro, ma non per colore. Quindi ecco che poi il Settecento riprende la tradizione dei grandi veneziani, il progetto veneziano, e fa le grandi ombre colorate. Grazie. 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 Grazie.